Di colpo si sono aperti dei vuoti nelle nostre giornate, si sono aperti spazi di tempo non libero, non liberato, ma forzatamente svuotato, svuotato degli incontri, delle relazioni, delle esperienze che hanno contrassegnato sempre la nostra socialità. Cosa accade dentro quegli spazi? Io sono molto preoccupato del fatto che non solo l'angoscia prevalga, come forse è inevitabile di fronte alla minaccia sanitaria che stiamo tutti vivendo, ma che si consolidano dei sentimenti di ossessione, di paura dell'altro, di riduzione della propria umanità, della propria larghezza, della propria ampiezza nello sguardo del mondo. Per questo a maggior ragione servono i libri, non solo perché riempiono intelligentemente quello spazio, non solo perché possono essere un elemento naturalmente di pensiero, ma anche di evasione, di evasione fisica quasi, mentale, immaginaria, dallo spazio nel quale restiamo chiusi e concentrati, ma soprattutto perché ci portano a contatto con storie e sentimenti che invece quella nostra umanità possono riaprirla, quei nostri sentimenti concentrati, ossessionati, comprensibilmente impauriti possono allargarli, possono arricchirli, possono in qualche modo colorarli. Per questo tra i tanti libri che si potrebbero leggere, ne ho scelto uno, i racconti di Grace Paley, tutti i racconti di Grace Paley, una racconta dei suoi magnifici racconti che sono anche brevi, più lunghi, possono prestarsi a letture discontinue, lei è morta a ottantenne nel 2007, è una scrittrice americana, un intellettuale new yorkese, ma la parola intellettuale la tradisce, è legata molto alla vita delle persone comuni, tutti i suoi racconti sono pieni di sentimenti diversi, di persone diverse, proprio quello di cui abbiamo bisogno, tutti i racconti di Grace Paley, questa è un'edizione Big Sur con una traduzione bellissima di Isabella Zani, poi ovunque direi di portare con sé un frammento dell'enorme Don Quixote di Cervantes, non perché si possa rileggere tutto insieme ogni volta, anche se forse l'occasione lo consentirebbe, anche se speriamo che questo tempo forzatamente svuotato finisca presto, ma perché nel Don Quixote ci sono tutti i sentimenti umani, tutti diversi, ogni volta che lo rileggi, un passo, un pezzo, un capitolo solo, trovi un'altra storia, un altro sentimento rispetto a quello che ci ricordavamo, tutti questi sentimenti diversi, questi colori diversi della vita sono quelli di cui abbiamo bisogno in questo momento angosciato e monocolore, cupo, da questo punto di vista la letteratura serve davvero a molto, leggere come ogni volta allarga, arricchisce, duplica la vita. Grazie 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 Grazie